Roberta Termali ha risposto a svariate domanade che li venivano poste dai suoi fan sul suo profilo Instagram ufficiale. Le domande erano di svariato genere, tra le più importanti vi erano quella sul rapporto con l'ex marito Walter Zenga, dove lei ha risposto molto francamente. Vorrei essere in buoni rapporti con Walter. E domande riguardanti Rosalinda Cannavò sulla storia nata con figlio Andrea sotto i riflettori della casa più spiata d'Italia, ovvero il grande fratello Vip. Alla nota conduttrice televisiva quando le hanno domandato che nonna sarebbe a risposto alla seguente maniera. Credo mi scioglierei come neve al sole davanti a quegli occhioni. Infine l'ex moglie di Walter Zenga si è espressa sulle fidanzate dei suoi figli. Molto contenta della loro felicità perché anche questo è tutto ciò che conta veramente. Lascia un like per non perdere nessun nuovo video.